ebbene carissimi amici ben ritrovati sul mio canale youtube quest'oggi regalo per tutti un bellissimo metodo spia in gioco la spia 77 accende il 19 ogni volta che su napoli palermo trovate il 77 o su napoli o su palermo su entrambe le ruote giocheremo il 19 sulle ruote di baricalleri anche in quarta in quinta posizione determinata quindi un metodo con il quale non dovrete fare calcoli dovete solo copiare e giocare il 19 sarà abbinato a quattro fissi abbinamenti per ambo e posso dirvi che negli ultimi 10 casi spia sono stati realizzati ben 17 ambi a ruote 25 ambati quindi un metodo veramente molto valido un metodo che potrete sempre utilizzare una scadenza quindi è una spia che potrete sempre utilizzare e vi consentirà di giocare il fisso 19 con quattro abbinamenti ambo massimo 13 colpi non fermatevi mai alla prima vincita perché il metodo da molto spesso vincite ma guardiamo questo caso per esempio del 4 febbraio spia 77 napoli palermo ci dava il quinto colpo il 16 febbraio guardate il 19 sulla ruota di bari stessa cosa 25 febbraio spia 77 ci dava il 25 di marzo dodicesimo colpo il 19 sulla ruota di cagliari il 9 di marzo di nuovo c'era la spia 77 sulla ruota di napoli e qui avevamo vincite multiple settimo colpo 25 marzo 19 a cagliari undicesimo colpo 3 aprile il 19 a bari e l'otto aprile tredicesimo colpo 19 di nuovo a bari e così via vediamo per esempio il 3 aprile si presentava anche per 77 il 6 aprile 77 è chiaro che quando la spia si presenta in questa maniera la giocata diventa quasi garantita perché comunque vedete poi all'otto aprile si va a presentare il 19 il 13 aprile si va a presentare il 19 17 aprile si va a presentare il 19 il 22 aprile si presenta il 19 guardate la potenza di questo metodo attenzione a cosa andiamo a vedere poi lascia a voi insomma la curiosità e il gusto di controllare altri eventi spia primo giugno guardate non solo abbiamo 77 sia napoli che palermo ma l'abbiamo anche in posizione questa secondo me è una condizione spia paurosa perché ci prepara un grande 19 su queste due ruote due colpi sono già andati da martedì 8 giugno 11 colpi abbiamo un grande 19 su queste due ruote anche in quarta e in quinta posizione chi mi contatta tramite whatsapp vi metto anche il riferimento in descrizione 348 75 47 715 avrà il metodo regalo con i quattro abbinamenti per ambo secco sono difficili non dovete fare calcoli e spero che questo metodo dia lambo secco a tantissimi di voi che mi contatteranno per avere il metodo gratuito la spia 77 accende il 19 speriamo di andare a fare e realizzare una bella vincita con questo 19 molto forte sulle ruote di baricali con i quattro abbinamenti per ambo questo è un bellissimo metodo spia speriamo di poterlo vincere lo potete sempre utilizzare contattatemi via whatsapp vi metto anche i riferimenti in descrizione solo chi mi contatta via whatsapp avrà questa spia in omaggio per adesso un saluto a tutti mister francolotti